La via per Sanfermo è stata riaperta al traffico. Dopo la frana di venerdì pomeriggio che ha riversato sulla strada un grosso albero, terra e detriti, oggi, dopo un sopralluogo, la decisione è di tornare a far circolare le auto. Ma se le condizioni meteo dovessero peggiorare, si predisporrà un nuovo stop. Stamattina nel corso di un sopralluogo alla presenza del comune, della proprietà e anche del parco della Spinaverdi, è stato deciso di riaprire la strada sotto condizione, cioè finché le condizioni meteo sono buone si può aprire senza dubbi. Nel caso in cui ci fosse di nuovo il maltempo, invece, verrà immediatamente chiusa in attesa dell'intervento sul versante che dovrebbe essere realizzato entro la fine della settimana. Diciamo che venerdì dovrebbe essere in partenza. Dopo un primo intervento, nella giornata di venerdì, di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, sono subito iniziati i lavori di ripristino, ma saranno i proprietari a dover sistemare l'area in modo definitivo. La frana aveva compromesso anche la rete di contenimento della parete. Nel frattempo, come detto, il passaggio è consentito, ma con le dovute precauzioni. La circolazione è sotto condizione, anche perché si potrà procedere a 30 km orari e si dovrà stare sempre attenti a possibili dilavamenti di terra dal versante. Prudenza e attenzione dunque per le numerose auto che ogni giorno utilizzano la via per Sanfermo per bypassare le arterie più trafficate.